Io sono Cristina Maric, sono l'insegnante di canto moderno della scuola Popcorner in sede a Montegalda. Budgy jumping! Oppure anche skydiving. Tutte quelle cose particolari che normalmente non si fanno mai e che si segnano nelle liste delle cose da fare prima di morire. Molto semplice e soprattutto è rivolta verso l'ascolto. Cerco di conoscere l'allievo che è con me, quindi di solito faccio cantare un brano o due. E poi come vedete qui, di solito inizio nella spiegazione della respirazione costo diaframmatica. Infatti come potete vedere, gli sto facendo mettere le mani nelle due posizioni più importanti per poter sentire la respirazione. Chiedo sempre di portare determinate cose a lezione, quindi una bottiglia d'acqua, una chiavetta per le basi, i testi. E questa diciamo è una prima lezione e poi si sviluppa insieme un percorso da seguire. La notte è giovane